Mafia Pugliese ragazzuoli, bentrovati su Crash 3, di adima 3% Abbiamo un cristallo, una gemma e una reliquia, andiamo avanti ragazzuoli Allora ragazzi, il primo livello l'abbiamo tutto completato Andiamo a farci il secondo livello, quello nell'acqua, vai! Eccoci qui ragazzi, secondo livello per noi, Crash 3 Questo è un livello abbastanza rompicoglioni, devo essere sincero Questi livelli qua nell'acqua non mi piacciono Vai, scuolo di merda Allora, dobbiamo fare a prima botte ogni volta, dobbiamo prendere tutte le casse perché non mi fa di rifare Se no ogni volta il livello, quindi ogni volta cercheremo di prendere anche le gemme Checkpoint Poi ci facciamo subito la reliquia, quella del tempo, senza perdere appunto tempo Attenzione che sta con l'altro, schiva da culo Ok Secondo squalo per noi, via! Prendiamo come sempre tutte le casse, tutte le mele Bomba del cazzo, via! Guardate, pesce palla di sto cazzo Altro checkpoint Dai che questi sono livelli facilissimi alla fine, raga Io non vedo l'ora di arrivare ai livelli difficili Che là ci possiamo divertire Ma questi che sono una minchiata Cioè, purtroppo siamo all'inizio e li devo fare Ok ragazzi, guardate, abbiamo preso la nave Faccio vedere una cosa Praticamente, questo sono io sulla diatema quando vedo una femmina a pecora Guardate Femmina a pecora Femmina a pecora Femmina a pecora Ok Avanti, 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 avanti Non ti girare dall'altra parte Femmina a pecora ancora Sfondiamola Uno, due, tre Boom No Ah, devo farla con questo Ok Boom, boom Perfect Ok Nove vite in totale Ma ripeto ragazzi, questi sono livelli del calcio Facilissimi Quindi Possiamo andare tranquillamente Boom Scoppia l'inculatura di pecorite Allora Ennesimo checkpoint Oh Cazzarola Cazza, cazza, cazzarola Vabbè c'è una vita là C'è una vita in uca, uca Ma guarda là, guarda Si deve incassare le crash lì in mezzo Dai Non facciamo sti fili del cazzo Perché sono livelli facilissimi Adesso usce con la Ah, prendila in culo Ok Scriviamo la bomba da sopra Perfetto Ma Mese si andava a bloccare l'aria Boom Femmina a pecora Uno, due, tre A pecorina Boom Che dite Sono un po' troppo volgare Sti cazzi Il mio canale non è fatto per i bimbi Vinchia Attenzione No, no, no Cazzo Ho sbagliato, ho sbagliato Dimmi che non ci sono Così da spaccare con quello Eh, ci sono, ci sono Vaffanculo va E io, eh Devo Devo ritentare ragazzi Devo morire apposta Dai, dai, dai Devo morire apposta Ci sono sotto i cosi da spaccare Quindi mi serve L'inculatura a pecorina Ennesimo Fail Voglio fare il giro da sotto Avanti, 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 avanti Ok, dai che non ci abbiamo più Luca Uga Quindi Facciamo attenzione Eccolo qua Ok, perfetto Perfetto Qui Non inquiliamo nessuno Se no ci Se no ci sono Cazzo Allora Va sotto Perfetto Aspettiamo le cose Era questo che volevo fare prima Quindi Ok, via Fuori dalle bulls Ok Volevo prendere sinceramente Luca Uca Però abbiamo preso le mille Sti cazzi Ok, spacchiamo ancora tutto Squalo fuori dai coglioni E ci dà la gemma Eccola qua ragazzi Perfetto Abbiamo completato il livello con qualche fail Però sti cazzi Ok Ragazzi Allora Cristallo Più gemma Direi di fare subito la reliquia Ce la togliamo almeno davanti Davanti alle palle Quindi Vai Dai così 1.46 Ok 1 minuto e 46 Vai È partito Anzi no Devo prendere l'orologio 1.46 Ricordiamoci ragazzi 3,2,1 Via È partita la Ferrari È partita la Ferrari È partita la Schumacher È partita la Schumacher Ah ok 2 secondi Quindi Quelli lì li dobbiamo prendere sempre Qui dobbiamo prenderci il nostro tempo Alle cose elettriche Perfetto Ci abbiamo pure Luca Uca Madonna Si era incastrato Crash Avanti 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 Basta lì sotto Perfetto Perfetto Qui C'è un bel 3 Ok Ci sta duro Ah cazzo La misaglia stava No no Torna Torna Ok Vai 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 Facciamo Facciamo in fretta Facciamo Con l'inculatore Di pecorina Dai Attenzione Eh va Fanculo Dai Vabbè Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi Fanculo Sti cazzi Fa niente ragazzi Ce l'abbiamo qua Di nuovo Luca Luca Fa niente Fa niente Fa niente Dai 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 1.46 1.46 Siamo in un minuto quasi No 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 Attenzione Attenzione Vabbacculo Vabbacculo No che palle Da capo inizio Oh madonna Riproviamo ragazzi Ho fatto un filo Dalla madonna Che palle Iniziano le bestemmie Iniziano le bestemmie Ragazzi Io mi sto mantenendo calmo Io mi sto mantenendo calmo Non voglio bestemmiare Non voglio bestemmiare Per favore Non fatemi bestemmiare Voglio portare un gameplay tranquillo Senza bestemmie Senza che sclero Per favore Dai Allora Riproviamo Vai sotto Crash Nuota Nuota più veloce Della luce Ok E poi devo ancora imparare A parlare A concentrarmi Mentre gioco Perché io Quando sto giocando Non parlo mai Quando gioco Non parlo mai Perché sennò Non mi concentro Ragazzi Eh però Che devo fare Il gameplay muto Non si può fare Il gameplay muto Ragazzi Ok L'incolatura di pecorine Perfetto Pula di tutti Vai Speriamo che ci sono Due squali Ok E sti cazzi Fa niente Tanto Ci andiamo qui dentro Prendilo Lo secondo Però datti Datti una mossa Eh vabbè Affanculo dai Tanaiva E poi Sembra Crestamurt E poi Sembra facile Ma non lo è Cioè almeno Quando giocavo Da piccolo Sembrava più facile Cioè non so Guarda la guarda 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 Quanto tempo Che mi sta facendo Perdere Vai così Vai così Spaccali tutti Spaccali tutti Velocità Frega cazzi Vai 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 Dimmi che ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta ragazzi 1 e 34 Perfetto Vai E anche la reliquia È nostra Perfetto Ragazzuoli E anche il secondo livello È totalmente completato Primo Guardate qui E il secondo Perfetto Direi di farci Il terzo livello Allora qui So già che Sclerrò Tantissimo Per prendere le casse Perché è tutto un livello In movimento Però Andiamo con calma Allora Poi ci sarà Da divertirsi Quando faremo La reliquia qui Allora Con calma Prendiamo Tutte le casse Qua come salti una Devi riniziare Io Le vite non le voglio perdere Allora Qui Dove andiamo Andiamo sotto Perché sotto ci sono le casse Ok Perfetto Abbiamo l'imbarazzo Della scelta Ogni volta Per andare sotto Ovviamente Dobbiamo andare Dove ci sono le casse Da prendere Allora Ok No No Azzocca Sulla cuda Sulla cuda Scusate per le parolacce Ragazzi Però E' più forte di me Io Le parolacce Se non le dico Sono triste Allora Sulla cuda Possiamo correre un po' Facciamo attenzione Non mi becchi più Sulla cuda Bastardo Ok Perfetto Checkpoint Molto importante Perfetto Ragazzi Ok Allora Qui dobbiamo andare Sopra Cazzo Sopra No giù Ho detto Sopra No giù Perfetto Dove stanno Dove stanno Perfetto Il tetto è qui Ok Perché se salto Una cassa Mi tocca sempre Iniziare Allora Ok Cristallo Nostro Altro checkpoint E fin qui Tutto ok Vai Vai così Dai che la gemma È nostra Allora qui Sotto Sopra Sotto Sopra Sotto Uno Due Tre Perfetto Così Finiamo questa E direi che le casse Sono Finite Stavo cadendo giù Perfetto 51 su 51 Ragazzi Cristallo E gemma Sono nostra Anche qui Nel terzo Livello E adesso Andiamo Con la Religia Beh là Chi è 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 Ecco quanto la sfida vabbè andiamo andiamo ragazzi allora qui sarà un cazzo di delirio avanti 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 devo imparare a vedere le cose prima c'è il tempo cazzo che devo vedere avanti 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 qui piccola frenata ok no 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 fan culo fan culo ma non mi dici da qualche parte il tempo no ok andiamo ragazzi andiamo madonna come l'ho schivato come l'ho schivato ragazzuoli avanti 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 1 2 perfetto 1 1 1 2 1 salto grande madonna che come l'ho rischiata lì come l'ho rischiata lì lì non ho frenato andiamo sotto stavo cadendo giù cazzo devo andare sopra minchia minchia mi sto un attimo me ne sto andando di testa ragazzi me ne sto andando di testa attenzione 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 perché ve l'ho detto il fatto se parlo non mi concentro cana iva andiamo andiamo sopra perfetto non è il buco non è il buco madonna vediamo vediamo se ce l'abbiamo fatta ragazzi non ne sono sicuro però 37 44 no non ce l'abbiamo fatta no non ce l'abbiamo fatta e non so quanto è il tempo però sì sì ce l'abbiamo fatta ragazzi ma pensavo che usciva prima la reliquia perfetto mettiamo fry come al solito vai vai perfetto perfetto sono curioso di vedere il tempo allora 41 secondi ok noi abbiamo fatto 37 perfetto minchia quella duro in 27 secondi tutta la naiva comunque ragazzi che dire l'episodio di crash si conclude qui nel prossimo andremo a affrontare il quarto livello e come quinto il grandissimo tini anzi no come quinto questo qui di nuovo dell'acqua e beh di nuovo dell'acqua che ho fatto quello del mare con crash e questo qui sarà quello con la femmina va bene poi vedremo nel prossimo episodio poi andremo a affrontare anche tini l'amico di più 3d che si trova a roma colosseo e nulla che dire ci vediamo alla prossima mafia pugliese